Giornata di consultazioni ieri per la direggenza del Teramo impegnata con i rinnovi e con gli eventuali adeguamenti dei giocatori attualmente in organico. Scipioni e Cenciarelli andranno certamente via, da loro è stata una richiesta specifica e abbandoneranno il Biancorosso. Da vedere se lo faranno direzione latina, dove ieri si è accasato Vincenzo Vivarini. Quello che è venuto fuori dall'incontro del pomeriggio è che Caidi, Di Paolo Antonio e Petrella sembrano convinti del nuovo progetto Zauli. Per quanto riguarda Tonti, la sua permanenza è ancora in dubbio, ma non dovrebbe essere in ardi comunque nel caso a sostituirlo. Le attenzioni però erano puntate su Amadio e Speranza, due che nelle ultime stagioni hanno rappresentato l'asse portante di difesa e centrocampo. Dopo il colloquio, quello che sembra essere più vicino a restare a Teramo sembra, ma il condizionale a questo punto è davvero d'obbligo, proprio il capitano Biancorosso. Con Amadio che invece sarebbe più perplesso e avrebbe probabilmente voglia di cambiare aria, tornando magari in Terrapontina, non ad Apriglia, ma in Nerazzurro per quella che sarebbe l'opportunità di misurarsi con il campionato di Serie B. Davanti Guidone non convince granché, anche se la punta si è appena liberata dal Sant'Arcangelo. Campitelli non ha messo paletti al direttore sportivo e all'allenatore, chiede solo di rinforzare adeguatamente il reparto avanzato. Un'idea possibile Antonio Croce che in questa stagione ha realizzato 13 reti, compreso il play-out, nel campionato di Lega Pro Gironici a Monopoli. In Abruzzo ha giocato con Cologna, Paese e Celano e il lupo potrebbe fare da interlocutore privilegiato.